Carissimi fratelli e sorelle, domenica prossima, il 13 agosto 2023, sarà la diciannovesima domenica del tempo ordinario, anno A. Il Vangelo tratto da Matteo, capitolo 14, versetti dal 22 al 33. Gesù ha da poco compiuto la moltiplicazione dei pani, e quindi questo brano in qualche modo illumina qual è il vero significato, per carità ha già contenuto nel brano stesso, ma lo ribadisce ed è in qualche modo collegato ad esso. Cosa ha fatto Gesù? Ha fatto una, come dire, una impresa da un punto di vista alimentare, e chissà quante altre persone purtroppo al tempo di Gesù e in tanti altri tempi hanno avuto problemi nello sfamarsi. Gesù invece vuole condurre i suoi discepoli verso un'esperienza di fede, cioè non sembra abbastanza agli occhi di Gesù, diciamo così, aver condotto i discepoli a dover rivedere tutte le loro categorie, i discepoli avrebbero rimandato via la folla a comprarsi da mangiare e non l'avrebbero tenuta lì fino a sera, ecco, ma Gesù fa presente attraverso questo miracolo che le loro categorie sono insufficienti, parziali, c'è bisogno della fede. Ma non basta. Il Signore fa fare ai discepoli un'altra esperienza che non è secondo le loro previsioni, secondo i loro programmi, secondo la loro logica. A volte anche nella nostra vita sembra che agli occhi del Signore non è abbastanza, no? Quando diciamo, ad esempio, che non abbiamo tempo di finire di affrontare una situazione bella, esaltante, faticosa, difficile, sofferta, che se ne presenta un'altra, altrettanto intensa o più intensa addirittura. Ecco, perché così il Signore ci vuole condurre non secondo il nostro ritmo, è Lui che conosce il ritmo dei passi che è necessario fare per una fede autentica, per una fede che ci serva e che ci aiuti a conoscere Dio e a conoscere noi stessi. Perché si può avere una conoscenza parziale del Signore e una conoscenza parziale di noi stessi. A volte perché siamo noi i primi a volere che rimanga in questa parzialità, a non volerci mettere in gioco fino in fondo, a non accettare che la fede ci spinga verso dove noi non vogliamo, che ci illumini quello che noi pensiamo non sia francamente illuminabile. Ebbene, il Signore costringe i discepoli a prendere il largo, a salire sulla barca. Costringe perché evidentemente non era qualcosa di auspicabile da parte dei discepoli, perché le condizioni del lago di Tiberiade la sera e la notte spesso non sono così ben auguranti. Costringe perché probabilmente i discepoli, molti dei quali avevano nel lago di Tiberiade il loro luogo di lavoro, sapevano che quelle non erano le condizioni giuste per mettersi. Ecco, già era sera quando Gesù ha moltiplicato i pani, questo succede dopo. Gesù fa qualcosa di importante, va in preghiera. E quella è la cosa importante da fare. Da una lettura di fede, non di misurare le forze, misurare gli orari, Gesù vive secondo il suo rapporto con il Padre. E questa è la logica che guida Gesù, le sue parole, le sue azioni, i suoi pensieri. E in questa esperienza che i discepoli fanno, loro devono affrontare una delle loro paure tipiche, una di quelle per cui sono stati impauriti di più, una di quelle che avranno sognato la notte negli incubi tante volte, essendo che molti di essi lavoravano appunto su quello stesso specchio d'acqua. Ebbene, il Signore a volte sembra permettere che dobbiamo anche affrontare situazioni che non sappiamo, che non vorremmo affrontare. Noi pensiamo, giustamente, che il Signore ci può preservare da ogni male, ci può preservare nei suoi disegni, nei suoi disegni misteriosi di aiuto da ogni situazione sfavorevole, ma a volte permette che questa protezione non si manifesti, o non si manifesti semplicemente nel modo in cui noi pensiamo. Perché? Perché se Dio è Dio, deve essere potente, deve essere vicino, deve essere di aiuto, anche in quelle che sono le nostre paure più viscerali, quelle di fronte alle quali noi diciamo Signore, tutto, ma non questo. Io sono buono e calo finché si fa questo, questo e quell'altro, ma non di fronte a quello. Ecco, il Signore è vero, in tante situazioni ci preserva con grandissima tenerezza, ma a volte da un male vuole trarre un bene, a volte da una situazione molto bella, o molto difficile, molto sofferta, molto esaltante, vuole tirare fuori una più grande conoscenza di Dio e una più grande conoscenza di noi stessi. Ecco, è Lui, colui che è presente nel momento della paura più grande. Quando la barca sembra non farcela, quando i venti, le condizioni del lago sembrano impossibili, Lui appare. Allora sì che ha senso incontrare il Signore, sì che abbiamo una sensibilità più grande alla Sua presenza, quando Lui si fa vicino, proprio in quel momento, allora sì che ha molto più significato, e ce ne andiamo conto di più, forse, in quel caso. I discepoli dicono, è un fantasma, ma in realtà non è così, al massimo i fantasmi sono loro, per usare un'immagine impropria. Cioè, Gesù è presente, ha chiaro qual è il disegno del Padre, è vicino, ha potere in quella situazione. I discepoli invece non sanno molto bene cosa fare. E Gesù dice, coraggio, sono io, non abbiate paura. Se Gesù è Dio, io sono. Se Lui c'è davvero, c'è un motivo per cui è possibile vivere le situazioni che ci fanno paura in un modo nuovo, in un modo diverso. E allora la logica in base alla quale affrontare la vita e scegliere che cosa è affrontabile o non affrontabile non si basa più sulla nostra sensibilità, sulle nostre esigenze e sui nostri programmi. Si basa sulla fedeltà di Dio, sulla sua presenza, sul fatto se davvero ci troviamo nella sua volontà, in quello che affrontiamo ogni giorno. Lui, il Signore, si incarica di darci tutta la forza, tutto l'accompagnamento che è necessario. Infatti, Pietro dice, se sei tu, manda che io cammini sulle acque. Perché Gesù era venuto, evidentemente, camminando sulle acque. Ed è possibile. Perché? Perché questo si basa su tutta un'altra logica. Perché tante volte noi forse l'abbiamo visto, no? Signore, Tu sei colui che sai farmi fare cose che io non saprei fare da solo. La forza, la consolazione, la speranza, la pace che ho avuto in quel momento di difficoltà, di dubbio, di fatica, di malattia, di crisi economica, di crisi nella relazione con un'altra persona. Ecco, quella che tu hai fatto presente è tale che mi posso fidare di te. Perché questo potere di Gesù sulle paure più forti è il potere sulla morte. Lui è più forte della morte. Ecco, con Lui possiamo fare cose più grandi delle nostre povere forze. Si tratta di allearci con Lui, di allearci con la Sua forza, di avere fiducia nella Sua presenza e nella Sua potenza in ogni momento della nostra vita. Lui mai ci ha abbandonato e mai ci abbandona. Con Lui possiamo attraversare situazioni che non credevamo di poter attraversare. Perché Lui ci ama. Perché Suo amore è infinitamente più grande del nostro limite. Non dimentichiamocelo mai. Ma ecco, può succedere che anche laddove si è fatto un'esperienza forte e grande di Dio, è possibile poi ricominciare a fare calcoli sulle nostre forze, sui nostri standard. E che succede in quel caso? Che noi affondiamo. Perché è chiaro, se ci regoliamo semplicemente su quelli che sono i nostri programmi, i nostri calcoli, certo che le situazioni che ci mette davanti la vita sono più grandi di noi. Certo che le sfumature, le scelte che ci mette davanti la volontà di Dio sono più grandi della nostra costanza. Ma ecco, c'è questa mano del Signore che ci rialza e ci fa presente che abbiamo bisogno di crescere nella fede, che siamo uomini di poca fede. Accettiamo questo, accettiamolo di buon grado, perché il Signore vuole far crescere questa fede dentro di noi. Ma se noi non lo desideriamo, se noi non ci mettiamo in gioco nella fede, se noi non glielo chiediamo, se noi riteniamo di essere già perfetti cristiani o perfetti nella fede, non arriva davvero a noi questa crescita. Perché siamo come noi che poniamo un argine, un limite a questo dono che il Signore ci vuole fare. E alla fine i discepoli riconoscono Gesù, riconoscono il Figlio di Dio. Ecco, come facciamo noi a conoscere meglio Gesù, a sapere meglio chi è, a sapere meglio che cosa può fare per noi, a sapere di più perché è importante, perché è fondamentale attraverso le situazioni della vita. Prima di certi problemi, prima di certi fatti in cui ci siamo incontrati nella storia, forse quei fatti con cui ci stiamo confrontando adesso. Noi non lo sapevamo così bene perché era importante il Signore, noi non sapevamo così tanto perché era fondamentale la fede, noi non sapevamo così profondamente qual era la potenza di Dio nelle nostre cose. Lo abbiamo saputo solo di fronte a quelle cose che non avremmo mai desiderato affrontare, eppure si sono fatte nella vita. Lui il Signore non ci ha abbandonato, si è fatto presente, è fedele per sempre. Arrivederci.